Novena a San Filippo Neri Quinto giorno Il distacco dalle cose materiali L'animo di Filippo era molto staccato dai beni terreni. Rifiutò non solo la ricca eredità di un suo zio, ma neppure si curò di quella paterna. In vita rifiutò sempre eredità e donazioni varie, anche ingenti, offertili da più persone. Non si lasciò mai neanche abaliare dalle mitrie o dalla porpora stessa, più volte offertali, ma in vano, da due papi, e a chi voleva persuaderlo ad accettare, rispondeva con gli occhi al cielo, Paradiso, Paradiso. Non scorgeva nei beni terreni nessuna felicità, nulla che appagasse i suoi desideri. Diceva, nulla trovo in questo mondo di bene. Chi vuole la roba non avrà mai lo spirito, e chi vuole altro che Cristo non sa quello che vuole. Il pensiero che in questo mondo non vi è nulla che possa portare al vero bene sarà la verità, che ci terrà lontani dall'attaccare il cuore a cose vane che portano lontano dal Signore. Quanto difficilmente quelli che hanno richieste entrano nel regno di Dio! Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così intera. Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, com'era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera O grande Santo, che preferisti una vita povera e austera alle comodità che ti offriva la Tua casa e Roma, per insegnare anche a noi a disprezzare le ricchezze transitorie, e cercare piuttosto i beni eterni. Aiutami a staccare anche il mio cuore da tutto ciò che il mondo inganevole mi promette, e aiutami anzi ad amare la povertà. Che io mi ricordi di essere un povero servo di Dio, che possa anch'io gustare i beni che sono promessi ai poveri di Spirito, nell'eternità beata. Amen. Preghiera a San Filippo Padre nostro Filippo, trafito nella carne dal vero fuoco dello Spirito di Cristo, e a tal punto consumato dal suo amore, da chiedere basta. Prega per noi, fa che diventiamo tuoi veri fili. Intercedi perché anche noi possiamo essere consumati dall'amore di Gesù per il Padre. Prega per noi perché siamo liberati dalle sicurezze umane, dalle durezze, dall'orgoglio, dalle mancanze di misericordia. Ottienici un desiderio imperioso e radicale di compiere in tutto la volontà del Padre. Intercedi per noi perché ogni palpito del nostro cuore possa ridire la voce mite, umile, pacifica e gioiosa dello Spirito Santo. Madre dell'oratorio, Madre nostra amatissima, portaci al Cristo tuo Figlio, che vive e regna con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo. Amen.